reale mutuo ha deciso di sostenere questo master insurance innovation per tanti motivi direi il principale è il fatto che il settore è in grandissima trasformazione in grandissimo cambiamento ed è importante che noi si abbia le capacità di formare attirare i nuovi talenti quelle nuove professionalità che ci servono per garantire che le nostre aziende assicurative continuino domani a saper soddisfare quelli che sono i nuovi clienti i clienti di di domani è proprio per questo che questo master è sì un master assicurativo ma molto orientato anche a formare su quelle tematiche di innovazione che stanno come dicevamo trasformando e cambiando profondamente le compagnie assicurative il secondo tema che ci ha sicuramente attratto è quello di poter fare sistema su torino fare sistema per il nostro territorio e poter aderire a una iniziativa che vede delle eccellenze del nostro territorio penso appunto a unitò a politò al collegio carlo alberto alla compagnia san paolo e a intesa san paolo che si un nostro concorrente perché operiamo e competiamo sullo stesso mercato assicurativo ma ci piace fare sistema e poter anche con intesa san paolo fare qualcosa di positivo per la nostra città di torino questi sono i principali argomenti e noi ci coinvolgeremo molto al di là diciamo della parte strutturale ed economica proprio anche nel scegliere identificare quelle che sono le materie per far sì che siano veramente concrete materie che riescano ad esprimere quello che oggi le aziende cercano dalle persone per integrarle in modo operativo e concreto in azienda e come manager di reale group ci coinvolgeremo in prima persona come può una compagnia nata nel 1828 essere ancora innovativa bello è più che mai e lo è più che mai perché in 192 anni di storia credo abbia dimostrato concretamente la capacità di reinventarsi di cambiare pensate che noi abbiamo cominciato le assicurazioni quando giravano le carrozze e oggi stiamo parlando di assicurare tematiche riguardanti il lancio di oggetti nello spazio parlo di cose concreti di reale mutua dunque più che mai reale mutua e il nostro gruppo negli anni ha dimostrato di sapere evolvere saper si trasformare pochi anni fa una decina di anni fa credo un nostro slogan di reale mutua era proprio moderni per tradizione e credo che effettivamente il nostro gruppo abbia nel suo dna nella sua tradizione la capacità di innovare di sapersi reinventare e di rimanere competitivo nel tempo l'altra cosa che penso reale mutua possa portare come elemento differenziante sta proprio nella nostra parte di mutua e cioè nel fatto che abbiamo una struttura societaria diversa e che questo per esempio ci porta ad avere una fortissima attenzione sui clienti sulla loro customer experience e sulla loro centralità nel modello di business di reale mutua perché non sono solo clienti ma sono anche i soci della mutua ed è proprio qua che credo che questi siano due fattori anche complementari per il rapporto all'intesa san paolo che noi possiamo portare a questo master come elementi di cultura e come elementi di specificità